Questa mattina a Reggio Calabria, nelle province di Verone e La Spezia, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 22 persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, estorsione e detenzione di arma da fuoco. Il provvedimento costituisce l'esito di una complessa ed articolata attività investigative avviata dal 2021 e ha permesso di ricostruire la persistente operatività dell'Andrangheta sui territori di Scilla. Villa San Giovanni e Bagnera Calabria, in particolare per quanto concerne il territorio di Scilla, l'indagine ha fotografato l'attuale operatività della cosca Nasone-Gaietti, la cui esistenza costituisce un dato ormai assodato dalle indagini e tra l'altro è emersa la figura centrale di un indagato il quale, rimesso in libertà nel novembre del 2018 e sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, avrebbe assunto il ruolo direttivo in seno al sodalizio di Andrangheta Nasone-Gaietti, attivo sul territorio di Scilla, ricevendo addirittura la consacrazione della cosca Alvaro di Sinopoli, dando così vita a un nuovo assetto criminale sul territorio scillese. Nonostante qualche fibrillazione all'interno della cosca Nasone, il nuovo sodalizio ha avviato una serie di attività estorsive ai danni di imprenditori ed esercizi commerciali, mediante l'imposizione della fornitura di prodotti commercializzati dai imprese occultamente governati da alcuni appartenenti all'asso delizio. È stato inoltre possibile documentare come la cosca scillese avesse una notevole disponibilità di armi o per assi in costante contatto con le altre articolazioni di Andrangheta, di Villa San Giovanni e di Bagnera Calabra, le cui connessioni criminali si sono registrate con particolare riferimento alle attività estorsive. Infine, nell'indagine è stato ricostruito anche come esponenti del locale di Andrangheta di Scilla, abbiano messo in atto una manovra di trasferimento fradolento di valori, finalizzata a schermare i capitali aziendali da ulteriori provvedimenti di prevenzione patrimoniale, agevolata dai contatti con l'amministrazione comunale che ha facilitato le concessioni demaniali relative alla gestione dei lidi balneari nei confronti di prestanomi.